In un'ordine di presentazione c'è Chris Americata, la domanda che volevo parlare io nasce anche da alcune interrogazioni che ultimamente sono state presentate dal Parlamento europeo sulla natura giuridica della proprietà dell'euro. Come abbiamo detto prima, la Banca Centrale Europea non può prestare in denaro agli Stati a passo agevolato e fondamentalmente quindi non svolge il ruolo delle banche centrali, cioè quello di essere il prestatore ultimo per gli Stati. Quello che chiedo a lei, se l'esempio è giusto e senza lato, è che la Banca Centrale Europea stampi euro e lo ceda all'1% alle banche commerciali che a loro volta decidono se acquistare titoli di debito a tassi che vanno dal 4 al 7%. Quello che le chiedo io, è che sembra giusto che un tale sistema sia in vigore e che non sia una delle più grandi truffe interpretate negli ultimi secoli da parte delle consorterie bancarie e finanziarie a danno dei cittadini? Grazie. Sono d'accordo. Vorrei dire a proposito che lo statuto della Banca Centrale Europea è molto simile allo statuto della Banca Centrale tedesca e si basa su una filosofia tedesca che prevede una totale e assoluta indipendenza della Banca Centrale. So che esistono altre banche centrali che invece vengono guidate anche da parte della politica. Comunque quando la Germania ha deciso di abbandonare il banco e di accettare l'euro, ha posto questa condizione e questa condizione è stata poi accettata. Che le regole vengono cambiate impossimamente è improbabile perché la Germania non sarebbe d'accordo. Comunque so anche che questo deve un attuale dell'APCE è un italiano. La signora Merkel dice che la Banca Centrale non deve intervenire questa banca in stato in difficoltà, ma deve agire in completo e deve essere un problema. Mi sembra che sia un bom contro se non so. Comunque sono d'accordo. La signora è stata un'ottima.